Azzerati i vertici della più grande piazza di spaccio operante nella borgata romana di Torbella Monaca, 51 gli arresti. I carabinieri del comando provinciale, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, hanno messo fine ad un giro d'affari da 600 mila euro al mese. Sequestrati 12 chili di sostanza stupefacente, 3 pistole, 16 orologi di lusso e gioielli per un valore di oltre 180 mila euro. Più di 300 i militari coadiuvati dalle unità cinofile, supportati da elicotteri del nucleo carabinieri di pratica di mare, impiegati nel blitz. I militari del nucleo investigativo e della compagnia di frascate hanno monitorato i movimenti e gli affari della banda dedita al narcotraffico, radicata nella capitale con base operativa e logistica nel quartiere di Torbella Monaca, in un palazzo in via dell'archeologia, fino a ricostruire l'intero organigramma del gruppo, che al pari di una perfetta organizzazione aziendale, aveva una struttura manageriale per la gestione dello spaccio di droga in modo da ottimizzare i guadagni. I compiti erano suddivisi rigidamente e dove chi sbagliava subiva punizioni gravissime. Dalle indagini degli inquirenti sono emersi episodi di veri e propri sequestri di persona, ai danni di associati infedeli e addirittura di loro familiari, rapiti per essere brutalmente picchiati. A capo dell'organizzazione capace di trafficare grossi quantitativi di stupefacente da immettere sul mercato della capitale, c'erano tre fratelli, individuati dai militari ed ora arrestati. Gli altri destinatari del provvedimento si trovano in varie regioni della penisola, da nord a sud. Nei confronti degli arrestati, a vario titolo, oltre all'accusa di reato di droga, è stata contestata l'aggravante di aver agito con metodo mafioso. Un plauso ai carabinieri arriva dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. L'operazione testimonia ancora una volta che a Roma, anche in aree problematiche e tra molte difficoltà, le istituzioni ci sono. Chi confida nell'illusione di approfittare di un territorio così vasto per vivere nell'illegalità, si sbaglia. Prima o poi lo Stato arriva.